22 secondi, tanto è bastato al killer per mettere a segno quello che, con il passare delle ore, sembra prendere sempre più le sembianze di un regolamento di conti. A raccontare gli attimi di terrore sono le telecamere di videosorveglianza del bar del parco, luogo dove si è consumato il dramma e che ora sono al vaglio degli inquirenti. Il killer, con ogni probabilità proveniente da fuori regione, ma che conosce bene la zona, arriva in moto, capo coperto da un casco integrale nero, giacca a maniche lunghe e uno zeno sul petto, sotto cui nasconde la pistola. I primi colpi attraverso le piante che delimitano il deor. Entra e avvicina la pistola al volto di Albi e spara sulla bocca, poi è la volta di Cavallito. Afferra i cellulari dalle mani del ferito e dal tavolo, prende un mazzo di chiavi per poi dileguarsi nel nulla. Albi, architetto di Francavilla, non ce la fa, muore quasi sul colpo. Cavallito, invece, viene trasportato in condizioni critiche in ospedale e sottoposto ad un lunghissimo intervento chirurgico. Secondo l'ultimo bollettino medico, le sue condizioni sono lievemente migliorate, ma resta in sedazione farmacologica in attesa di un nuovo intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile conficcato nella testa dell'omero. Perché portare via i telefoni? Forse lì sopra dovrebbero esserci delle tracce, delle conversazioni, se queste però sono arrivate al di fuori di WhatsApp. E poi perché sul tavolo vi erano una decina di pizzette? Forse le vittime aspettavano qualcuno, forse lo stesso killer, che ha teso loro una trappola e che fa pensare ad un delitto in perfetto stile mafioso, studiato nei minimi dettagli. Ne sono convinti gli inquirenti della squadra mobile, che nella mattinata di ieri hanno perquisito le abitazioni, e il procuratore capo Giuseppe Bellelli e il PM Andrea Di Giovanni, al lavoro per capire cosa potesse legare i due, nonostante il divario di età e dalle vite apparentemente opposte. Sullo sfondo restano comunque le questioni legate alla droga, e che avevano visto coinvolto dieci anni fa cavallito.